bene a tutti ragazzi sono stituto di 7 e oggi siamo qui in questa nuovissima cattura su gta 5 online oggi siamo qui e appunto questa nuova cattura che era stata romanaccio e un avalanche e dalla miniatura ho visto una super mega rampa con una bella valanca di veicoli quindi credo che sarà un po' tosta allora per prima cosa mettevoci il cappellino se me lo fa mettere aia sui ok e vedi questo sui ti permettere non ti permettere andiamo 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 piano ole a filo sono arrivato eh andiamo su che penso c'ho pochi veicoli ma vedo che ne stanno arrivando veramente veramente tanti eh mi facciamo attenzione che vedo pezzi di porte che potrebbero anche trollare occhio al camion dei pompieri occhio all'aereo andiamo sopra no mannaggia qua c'è c'è l'ala dell'aereo mannaggia ok ok adesso non c'è più niente andiamo andiamo ok oh cosa è successo è venuta fuori un'esplosione pazzesca eh e vabbè e vabbè capita capita andiamo no no mannaggia ok rieccaci qua ci ho messo un botto di tempo per morire una cosa pazzesca andiamo su magari per la persona si vede meglio eh anche in terza si vede bene però aspettate proviamo a fare in prima andiamo andiamo attenzione occhio e di qua ok 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 vai su vai su vai su no 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 ok ok l'ala l'avevo schivata anche questa occhio 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 sta arrivando 280 mila piccoli no no �naggia ero quasi arrivato che era qua pochissimo mi sta fumando la moto aspettate fermi 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 to riscendendo tutto Ok I gaieri stanno veramente Buggando No Mannaggia l'ala Dell'aereo credo che sia la cosa più trollosa Riciriamoci Ok ci siamo Andiamo 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 No no sta cascando un altro aereo Ieri trovo veramente troppo Oh caspita qua il camion dei pompieri Ok No Sto pezzi di sportelli Ok qua c'è il bus Ok siamo di nuovo un po' Trollati Un minuto alla fine del round Un minuto e mezzo Stanno a vincere loro Vediamo se riesco a consegnare qualcosetta Andiamoci di qua Ok l'ala non mi ha trollato Tutto bene Ok siamo passati sotto Meno male non ci ha beccato niente Andiamo su speriamo Oh caspita se mi evitavo Uh Mi è passato sopra il camion È proprio sopra 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 Meno male Andiamo 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 C'è una moto fumante Ok eccoci qua Prendiamo Il camion Blindato della polizia Furgone blindato L'hanno fatto tre punti adesso Mannaggia Che da questo round si è perso Ma io meno male avevo messo Due Due round Quindi siamo a posto Che è arrivato sui No no Cosa è successo Mi ha ucciso con il suo fumo E vabbè Ok andiamo 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 Veloce Mannaggia Era un perdente Prossimo round Ok Eccoci qui Secondo round E ora Dobbiamo Vincere bene Allora mettiamoci Il cappellino Che fa Ok È andato Ci spiaccichiamo proprio Sopra il camion Ok Eccoci qua Andiamo a fare Molta attenzione Adesso Andiamo Occhio No 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 Ok Sui Che ci fai qua Sui Piano Andiamo 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 Ok che lui mi segue Piano piano È che io i ripari Li uso veramente Veramente poco Io schivo Tendo a schivare Ok No no Mi si è portato giù tutto Oh Fermiamoci un attimo Rigiriamoci Ok Sono posto sotto L'alto dell'aereo Andiamo Non sale più su Veloce Ok 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 Mi hanno ripreso Un po' La nostra velocità No In pieno Mi ha pigliato il camion In pieno Ok Rifacciamo Di nuovo Tutto Tutta la mega rampa E dai È così Ok Abbiamo fatto La mega rampa E ora Siamo qui con Metti Asui Che te fai gesta Ci vai avanti Bravo Andiamo a consegnare Così facciamo due punti Allora solo uno Perfetto Ok Andiamo 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 Veloci Ok Si potrebbero anche sparare flip Cioè La rampa è abbastanza alta Per spararsi Un bel flip Questa volta ci proviamo Dai Sucidiamoci qua Che c'è già un fumo Ah no Spara potere Ce lo spariamo anche noi Dai Dai Sarei un bel poterino Ah sui Che te lanci No io non ce li ho aspettati I fumogini Ok Suicidiamoci Dai eh Ok Che incominciamo A sfogare Perfetto Ok Ok Adesso devo Risalire di nuovo su Andiamo Veloci No Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Finalmente ce l'abbiamo fatta A salire di nuovo su Andiamo Andiamo Ma stavolta non c'è nessun suino Qua con me Noi ne avete proprio Già fatto 4 punti Loro solo 2 Quindi questo round Lo vedo Stra Vinto Adesso questo qua È il quinto punto Mi direi proprio che Siamo a posto Quindi avremo un round Di spareggio finale E speriamoci Un bel flip Come ho detto prima Eh dai È così Occhio Ok Me lo consiglio lo stesso Sì 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 Ole Consegnato Perfetto Suicidiamoci E ormai adesso Sta scadendo il tempo Quindi stiamo A posto così Così è un bel round Vincitore Dai Suicidati Veloce Ok Ci siamo Ok Eccoci qua Ormai il round È bello Che è vinto Dacci un bel round Vincitore E infatti Round vincitore Prossimo round Ok Ultimo round Round Il dispareggio E lo dobbiamo vincere Lo dobbiamo vincere Per forza Mettiamo di nuovo Il cappellino E andiamo Ok Tutti spiaccicati Perfetto È il momento Di salire Andiamo Andiamo Veloci No che non beccare Roba Ok Eccoci qua Siamo arrivati Di nuovo Su Perfetto Cioè di nuovo Metti Sui Andiamo Consegnerei Dai Facciamo i primi Due punti Di questo round Dai Sui Si ci sta Ci Si ci sta Ci sono La moto fumante Pesco Non Rischiere Si rompe Uh C'è un bel Mario Bros Che ci attende Allora abbiamo fatto Tre punti Asui Grandissimo Mario Andiamo Tutti e tre A consegnare Forza Dove sta Metti Ok Metti Arriva Andiamo Spero C'è un altro Flip Ok Questo è venuto Leggermente male Eccoci qua Uh Metti Come è Atterrato Spero che Faccia il punto Eh Sì Sì Credi sì Ok Eccoci Di nuovo Qua Eccoci qua Di nuovo Abbiamo fatto Già Quattro punti Questo è Il quinto Loro Non sono riusciti Ancora A fare Nessun punto Eh Non so Se si è Buggato Qualcosa Se proprio Non riescono Più Eh Vabbè E Spariamoci Un 360 Così Questa volta Oh L'è Venuto Benissimo Uh Atterriamo Sopra Consegniamo Persino Eh sì Eh sì Perfetto Così Suicidiamoci Ok Partita Vincitore Quindi ragazzi Se è piaciuto Questo Questa bellissima Cattura Mettete un bel like Iscrivetevi al canale Commentate Seguitevi su Instagram Saluto Dei suini E ci vediamo Alla prossima Bella